bentrovati a questo nuovo speciale di sport oggi parliamo di una disciplina che magari non se ne parla spesso però comunque sia è davvero appassionante davvero coinvolgente anche guardando le immagini che sono spesso spettacolari quelle che che caricate voi ma prima presentiamo il presidente di med sbroccati ovvero riccardo maci salve a tutti allora noi siamo un'associazione nata da un gruppetto piccolissimo di amici che andavano un mountain bike che però non ci piaceva pedalare in salita quindi la nostra passione è la discesa voi praticate enduro bike di cosa si tratta partito al modo all'enduro è una disciplina della mountain bike che si pratica esclusivamente in discesa dove vengono realizzati molto spesso anche a mano di percorsi all'interno dei boschi vengono puliti per consentire di scendere giù in discesa e infatti anche le gare sono tutte in discesa sono dove il tempo della gara viene preso dalla partenza all'arrivo e solamente la discesa come le gare di ciclismo a cronometro diciamo praticamente che se qui con un percorso decisamente particolare si va in discesa in mezzo a a volte mezzo agli albi in mezzo ai rami in mezzo alle foglie soprattutto ad autunno in mezzo a qualche burrone qualche fosso e sassi e sono gare a cronometro sono gare a cronometro dove c'è questo piccolo segmento di due tre chilometri normalmente e viene preso il tempo e viene preso il tempo su questo piccolo segmento e ci mette di meno ovviamente poi vince insomma questa cosa impiega un tempo minore la somma di tutte le prove speciali si fa la somma delle prove speciali chi c'è un tempo più basso ha vinto ha vinto la gara ci scrive trasmettere le emozioni di questa disciplina che emozioni dall'enduro becca che magari non dà il ciclismo classico non dà la mountain bike non danno proprio le moto dell'enduro o le bmx cosa c'è di diverso qui c'è l'adrenalina che conta perché quando si va in discesa le velocità sono alte 30 40 chilometri uno può pensare 30 40 chilometri sono pochi pochi fatti su strada ma all'interno di un bosco dove ci sono gli alberi c'è da sul passato delle rocce ci sono dei burroni scendere giù a 20 30 chilometri è tanto quindi da da un'emozione da il percorso più tortuoso che avete affrontato nella vostra giovane carriera e i più difficili che ho fatto sono sono al nord sono perché al nord ci sono le montagne più alte quindi montagna più alta vuol dire un percorso più lungo ancora più in discesa e ancora più difficoltoso invece che cosa ha di diverso la bicicletta da enduro bike rispetto altri tipi di biciclette magari le ruote se vuole ruote grassi oppure come è composta la bicicletta adesso magari la bici è molto diversa le bici da enduro sono biammortizzate hanno delle forcelle davanti con una sospensione molto più più ampia hanno un ammortizzatore centrale hanno delle ruote più robuste il telaio le differenze sono molto più grosse sono più pesanti e lì si ci penalizzano quando c'è da pedalare per arrivare su cima alla montagna per farsi la discesa infatti una bici più pesante la bici più faticosa rispetto ad una bici classica mountain bike e rose country ovviamente una cosa che stanno chiedendo a casa è sbroccati insomma questo nome che fa venire subito per sorriso a bella risata come nasce questo questo nome in realtà a parte sbroccati uno può capire magari fuori è nato su ad allumiere allumiere c'è una località sbroccati e noi eravamo su a decidere che il nome dare all'associazione siccome sbroccati c'erano ci sono dei percorsi molto belli qualcuno è nata l'idea di associare il nome dell'associazione ai nomi di questa località e raggiunto risultati importanti anche con ragazzi molto giovani ad esempio abbiamo parlato a marzo abbiamo scritto un articolo a riguardo chiedo quindi un consulto su quello che avvenne con questi due ragazzi della minores si questi ragazzi già dall'anno scorso che corrono con noi hanno iniziato da pochissimo anche sono ragazzi uno a 15 anni un altro una 17 e comunque hanno già raggiunto degli ottimi risultati nella prima gara di stagione è arrivato secondo di categoria Samuel Del Rio 17 anni e l'altro ragazzo che era la prima gara in assoluto che faceva è arrivato un po' più indietro ma perché mancanza di esperienza perché queste gare non vanno gestite solo attrattivamente vanno anche gestite tecnicamente sulla base di non stancarsi troppo in salita sapere affrontare anche gli ostacoli e magari farli qualche volta un piano più piano per non perdere il tempo e magari uno sbaglia in curva sì sì è una cosa fondamentale a gestire il ritmo poi accade il ciclismo classico soprattutto quando vediamo le grandi classiche visto anche recentemente con l'Igdupea e l'Igipastogliegi che sono corse in cui se non hai sempre la tempra se non hai sempre la concentrazione adatta rischi di buttare via energie inutili sì infatti uno magari sbaglia tre secondi e quei tre secondi ti penalizzano completamente una gara anche perché due chilometri in discesa si parla di cinque minuti di tempo sbagliando cinque secondi uno va a vedere che è tantissimo siamo quasi in normalità dopo tutto quello che è accaduto in questi anni ovviamente anche l'enduro bike ha dovuto subire le conseguenze del covid che progetti ci sono per l'estate che gare ci sono? le gare ne abbiamo in un campionato che si sviluppa quasi tutto in Toscana sono quattro gare a cui parteciperemo a tutte il 15 maggio c'è il campionato regionale di enduro del Lazio parteciperemo pure a quello e poi ci sono altre gare che vengono fatte non tanto per partecipare al campionato o vincere ma per tenersi in allenamento durante una gara e l'altra ora c'è questa qui l'8 maggio del campionato Maremma poi la prossima del Maremma si parla a settembre quindi da qui a settembre vengono fatte delle gare non tanto perché si partecipa a campionati ma per tenersi allenati per non stare fermi il Presidente l'avrà annunciato adesso li guardiamo queste biciclette ne vediamo due per l'appunto alzate sopra il rialzo che differenza c'è tra queste due biciclette una da enduro e l'altra no? apparentemente sembrano identiche sembrano perché uno vede hanno tutte la forcella, l'ammortizzatore centrale anche quest'altra anche se non è da enduro però quello che differenzia sono le escursioni sono escursioni maggiore nell'ammortizzatore centrale escursioni maggiore alla forcella infatti la forcella a vista si vede che questa è molto più piccola rispetto all'altra cambia l'angolo di sterzo tra la forcella e il telaio che questo qui è un angolo di sterzo più piccolo quell'altro è più ampia e poi anche dal telaio si vede subito che questo è molto più fino rispetto all'altro che ha un carro molto più largo un tubo obliquo molto più grosso per sostenere le vibrazioni maggiori una cosa non avevamo detto il legame con B-Med come nasce vi sta supportando tanto che insomma anche il nome alla squadra quindi è una cosa fondamentale il legame con B-Med è nato innanzitutto è dall'amicizia che abbiamo da molto tempo e poi abbiamo come punto di riferimento quella riparazione delle bici quindi ci dà pure uno sponsor quindi ci aiuta nell'andamento dell'associazione una cosa fondamentale la vediamo anche in Formula 1 per esempio c'è sempre una cosa importante dei meccanici di non sistemare le auto e quindi chi li ha migliori può andare a spazio con più tranquillità insomma questa ovviamente è una cosa scherzosa però ha anche la possibilità di riparare meglio le situazioni è importante anche questo anche per quanto riguarda le biciclette poi la vediamo adesso nelle gare di ciclismo vediamo che si arriva a cambiare la bicicletta più che a cambiare il pezzo quindi non è diventata questa una cosa tipica il ciclismo sì nelle gare d'enduro ad esempio non si può cambiare nessun pezzo una volta partiti perché sia le ruote, il telario e la forcella vengono funzionati con delle marche quindi a parte con quella ruota e deve arrivare con quella ruota con quella forcella con quel telario non si può cambiare nessun pezzo quindi non c'è nessun vantaggio nessun vantaggio si può solo fare una manutenzione durante il trasferimento magari uno fora sbatte il cambio si può appiegare poi deve fare tutto autonomamente senza l'aiuto di nessuno è proprio da regolamento per questo tipo di gare iniziamo a vedere Rieccoci in questo viaggio nell'enduro bike, abbiamo disturbato Graziano Purati di BIMED che era impegnato a fare manutenzione di conforto dei bicicletti Esatto, una buona manutenzione che serve parecchio nell'enduro proprio perché loro durante la manifestazione non possono mettere mano ai mezzi che sono punzonati Quindi arrivare lì e non avere problemi è sicuramente un vantaggio grosso nella gara, in tutta la competizione Bisogna fare tutto prima e non avere problemi dopo, durante Diamo anche le coordinate per quanto riguarda gli sporcati, per chi magari vuole entrare a far parte del vostro gruppo, di questo magico mondo dell'enduro bike Sì, certo, chi vuole far parte del nostro gruppo è sufficiente, vado anche su Facebook, Instagram, abbiamo sia la pagina che un gruppo Facebook A essere di Sbroccati Enduro Bike, ci contatta e viene a far parte della nostra associazione È sempre davvero bello, Graziano Sì, beh, più siamo e meglio stiamo, insomma, sicuramente è quello Eh sì, benissimo, quindi bocca al lupo per questo connubio tra BIMED e Sbroccati che possa durare più lungo possibile Grazie, grazie, grazie a tutti Grazie